D-Factor è un'iniziativa per sperimentare nuovi percorsi, di innovazione tra design e manifattura digitale. È un progetto, un'iniziativa pilota, quindi innovativa, che si compone di due fasi. Una prima fase in cui una piccola media impresa interessata a sviluppare un nuovo prodotto, a testare le potenzialità delle tecnologie per la fabbricazione digitale, acquisisce una serie di competenze anche attraverso esercitazioni pratiche che sono legate a comprendere quali sono le trasformazioni nel campo della manifattura digitale, nel campo del design, lo sviluppo dell'Internet of Things, ma a misura di piccola impresa, a misura di impresa artigiana. Fatto questo percorso, che poi è finalizzato a far tirare fuori un'idea innovativa e un concept innovativo di prodotto a un'azienda, c'è una seconda fase in cui l'azienda che vuole sperimentare anche lo sviluppo e la trasformazione di questo concept in un prototipo di studio, può farlo attraverso una serie di attività pratiche che vengono fatte sia all'interno di uno spazio come Polifactory che come completamento all'interno della propria impresa, con l'idea di arrivare alla fine di questo percorso complessivo con uno sviluppo concreto che può andare dall'idea al mercato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!